Ok, me presento, cerco de non essere lento, cioè proprio, non garantisco. Allora, io sono nato e cresciuto in borgata popolare, anzi, proprio prima valle, se vogliamo, però io da sempre mi sento re, non so manco io perché, ma è così, insomma, da quando sono nato io mi sento re, che ne so. Che posso dire? Sono una persona semplice, sono una persona semplice, però sono pure complicato in realtà, perché ci stanno dei momenti in cui i pensieri mi diventano proprio un rompicapo, è così. Ti stanno bene, i capelli alla maschietta, mi diceva, mi nonna, e ce l'aveva visto lungo, infatti è andato al pezzo che io ormai non porto proprio più la conna. So timido, eh, sia mai, però poco poco. Poi, con le passioni mie a me si accenne proprio il fuoco e per me recitare è una passione, perché mi tira fuori tutto quello che per l'altri è solo un nome. Piacere, Alessandro, 33 anni, italiano, di Roma. Piacere, Alessandro, 34 anni, italiano, di Roma.